Buona giornata da Eleonore. Oggi video per quanto riguarda il tempo, il meteo nel nord Italia per il mese di agosto. Quindi iniziamo. Oggi utilizzo questo pendolo che non ha solo uso per determinare il tempo, le negatività. Questo è un pendolo che ha anche degli utilizzi differenti. Si usa in altri casi, ma non ve lo spiego perché comunque non sono cose che appunto possano interessare alle persone. Un pendolo specifico universale. Allora vediamo che tempo farà il giorno domenica 6 agosto. 6 agosto su nord Italia. Sarà un tempo variabile. Quindi potrebbero esserci piogge, vento, anche grandinate forse. Anche se grandinata più a sud. Poi 13 agosto. Vediamo. 13 agosto. Decisamente bel tempo. 20 agosto. Ancora variabile. Ancora variabile. Al nord. Chiudiamo. 27 agosto. Bel tempo. Quindi sarà un mese abbastanza variabile. Qui al nord. Nel nord Italia avremo variabilità. Quindi non dovrebbe esserci un caldo affoso o comunque una normale estate del nord Italia. Come gli eventi normali che sono capitati in questi giorni. È sempre stata possibile la grandine. E tutte queste cose ci sono da sempre. Quindi adesso qui c'è il terrorismo in tv per quanto riguarda questi fatti che sono naturalissimi. Io vi auguro buona giornata e a presto.